ciao a tutti bentornati su chitarra di un certo livello e oggi abbiamo qui una metton 808 e bg michael fix ascolteremo questa chitarra ripresa da due microfoni road m5 e direttamente collegata con il suo sistema di preamp alla scheda audio e 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.